incidente a mondolfo muore centauro quarantasettenne cagli due cani uccisi con esche avvelenate salvini a pesero presenta i candidati della lega marchigiani scuola di via fermi via alla maxi riqualificazione basket ario costa premiato con la prestigiosa retina d'oro una buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale del nostro telegiornale rossini news notiziario di martedì 23 agosto che apriamo purtroppo dandovi notizia di un nuovo incidente mortale sulle nostre strade a perdere la vita nella tarda mattinata di oggi è stato un motociclista di 46 anni di mondolfo che in sella ad una moto yamaha ha tamponato un'auto seatibizza percorrendo la strada provinciale cesanense nella frazione sterpettine di mondolfo vani i tentativi di reanimazione del 118 a corso sul posto l'uomo è morto pochi minuti dopo l'impatto in seguito ai traumi riportati ancora cronaca ma ci spostiamo a cagli dove ai carabinieri forestali è arrivata una denuncia per due cani morti in seguito all'ingerimento di altrettante esche avvelenate l'episodio è avvenuto la scorsa settimana quando un golden retriever di sette anni e un border colli di tre anni hanno cominciato ad avere le convulsioni poche ore dopo una passeggiata con la loro padrona trasportati d'urgenza in una clinica veterinaria i due cani sono stati sottoposti alla vanda gastrica e posti in coma farmacologico ma ad entrambi è stato riscontrato un avvelenamento da metaldeide che risultato fatale proprio a cagli un analogo episodio avvenne tre anni fa quando furono uccisi tre cani in pochi giorni con lo stesso metodo di avvelenamento ed ora cambiamo argomento apriamo una ricca pagina politica a cominciare dalle immagini che ci arrivano dall'hotel excelsior di pesaro dove poco fa ha fatto tappa il segretario federale della lega matteo salvini per presentare i candidati alle elezioni della lega per quello che riguarda la regione marche a meno di 24 ore dalla chiusura delle liste elettorali per la chiamata alle urne del 25 settembre i candidati marchigiani della lega partono con la benedizione di matteo salvini il segretario federale della lega nel pomeriggio ha fatto tappa all'hotel excelsior di pesaro per dare il via alla campagna elettorale del partito un partito che schiera ben due assessori regionali dell'attuale giunta acquaroli il fanese mirco carloni predestinato alla vittoria nel collegio uninominale di pesaro urbino per la camera dei deputati e giorgia latini pronta a tornare in parlamento dal collegio uninominale di macerata al tavolo dell'excelsior anche i candidati ai listini plurinominali del proporzionale con riccardo marchetti deputato e commissario lega marche capolista alla camera davanti a elena campagnolo giuliano pazzaglini e silvana ghiretti e con mauro lucentini deputato uscente in versione capolista al senato davanti a laura laviano e alessandro amadio sono orgoglioso di partire dalle marche per questa campagna elettorale durante la quale vogliamo promettere poco perché poi vogliamo mantenere tutto e la priorità per la lega è e sarà lavoro e tasse quindi lavoro vuol dire azzerare la legge fornero e arrivare a quota 41 che dà a circa un milione di lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione e apre tanti spazi di lavoro ai giovani e sono contento che anche Cigelle e Cisle Will sostengano questa battaglia della lega tasse significa estenderla flat tax ad altre partite IVA in prospettiva anche ai dipendenti e alle famiglie pensionati fino a 70 mila euro di reddito familiare quindi non si tratta dei milionari o dei o dei ricconi e poi c'è un tema di sicurezza ormai ai me quotidiana con episodi di cronaca nera che non si contano un altro stupro a Bologna nelle ultime ore baby gang sbarchi continui quindi dal punto di vista della sicurezza del controllo delle città e del contrasto all'immigrazione clandestina penso che la lega sia una garanzia per gli italiani e per gli immigrati per bene che ci sono nelle marche contiamo di vincere ovunque adesso con tutta la scaramanzia e l'umiltà del caso perché sono solo gli italiani e i marchigiani a decidere con il loro voto il 25 settembre però l'aria è veramente buona c'è tanta voglia di cambiamento se il centrodestra vince ci sono cinque anni di stabilità di sicurezza di tranquillità una maggioranza finalmente omogenea senza PD e 5 stelle a fare i capricci io sono orgoglioso del lavoro di donne e uomini della lega in regione Marche dei nostri sindaci nei nostri amministratori regionali abbiamo fatto scelte su persone molto valide tante altre in gamba ce ne sarebbero state però purtroppo la riduzione delle liste a questo ha portato però c'è una bella squadra e soprattutto dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo qua penso che se il centrodestra continuerà a lavorare bene se la continua a lavorare bene vinceremo in tutti i collegi la lega mi ha chiesto la disponibilità ovviamente io l'ho data e devo dire sono molto fiero di poter rappresentare la lega e tutto il centrodestra nel collegio di pesero e urbino che il mio collegio dove ho cominciato a fare politica tanti anni fa e oggi penso di poter portare un bagaglio di esperienza di competenza anche maturata proprio in questi due anni in regione non solo di conoscenza dei problemi ma anche qualche idea di come risolverli perché in due anni abbiamo visto che poi tante delle decisioni prese si risolvono su Roma e quindi è importante anche lì avere una collaborazione un collegamento tra la giunta regionale e le istituzioni romane ora quello che noi stiamo preparando è una proposta politica per i cittadini delle marche in particolare di pesero urbino in modo che si sentano rappresentati e possono votare chi ritengono più opportuno in questo caso io credo che la lega che ha dimostrato anche di saper valorizzare i territori gli amministratori locali possa essere un partito che più di chiunque altro ha questa cultura di portare a Roma i problemi del territorio i candidati della lega sono però solo una piccola parte delle 20 liste elettorali che si presenteranno nelle marche vediamo la panoramica completa di partiti e capilista nel prossimo servizio sono 20 le liste elettorali depositate nelle marche per altrettanti partiti o movimenti in corsa alle elezioni del 25 settembre verosimilmente in parlamento ci arriveranno esponenti di meno della metà delle liste presentate rossini tv vi ha illustrato ieri i candidati in corsa per i quattro poli dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra dal terzo polo rappresentato da italia vive azione fino al movimento 5 stelle oggi andiamo a conoscere anche gli altri nomi e partiti che completano l'esercito di candidati votabili per la camera dei deputati al collegio uninominale di peso rurbino oltre ai già citati mirco carloni per il centrodestra giordano masini per il centrosinistra rossella cotto per i 5 stelli e federico talè per il terzo polo si aggiungono stefano puzzer per italexit renzo savelli per unione popolare con de magistris svegis dalibor per italia sovrane popolare loredana narcisi per alternativa per l'italia e chiara pizzorno per il partito comunista per l'italia al senato al collegio uninominale marche nord pesaro ancona antonio de poli per il centrodestra marco bentivogli per il centrosinistra samuela melini del movimento 5 stelle elena fabbri per il terzo polo emanuela merli per italexit marco bini per unione popolare con de magistris paola raponi con italia sovrane popolare gabriele cinti di alternativa per l'italia e stefania settimi del partito comunista per quello che riguarda il proporzionale il partito democratico schiera capolista al senato alberto losacco e alla camera irene manzi verdi sinistra avranno come capolista caterina di bitonto e luisa serroni impegno civico di maio si presenta con primo di nicola e patrizia terzoni più europa con pierpaolo loffrede mattia morbidoni il terzo polo di azione italia viva con fabio urbinati e tommaso fagioli il movimento 5 stelle con roberto cataldi e giorgio fede fratelli d'italia si presenta con guido castellini e lucia albano la lega con mauro lucentini e riccardo marchetti forza italia con jessica marcozzi e valentina vezzali noi moderati con tablino campanelli e giulia marchionni italexit con enzo palladino e massimo gianangeli italia sovrane popolare con fabio pasquinelli e marco rizzo partito comunista italiano con patrizia serafini e roberta coletta alternativa per l'italia con cristiana di stefano e fabio sebastianelli e infine unione popolare con de magistris con davide fior del mondo e arianna buda e dunque un esercito di candidati ma solo 15 parlamentari marchigiani da eleggere nel prossimo servizio cerchiamo di capire meglio il funzionamento di questa elezione nonché le modalità del voto scelti i nomi entra nel vivo una campagna elettorale con porte chiuse o socchiuse per la maggior parte dei candidati già perché a fronte dell'esercito di nomi sparpagliati nelle venti liste c'è posto per eleggere solo 15 parlamentari marchigiani cioè nove in meno delle elezioni 2018 in virtù di una legge sul taglio dei parlamentari da 945 agli attuali 600 che ridurrà le elezioni nelle marche a 10 deputati contro i 16 della precedente tornata elettorale e ad appena 5 senatori contro gli 8 che si eleggevano fino a 4 anni prima come si vota l'elettore avrà due schede identiche una per la camera dei deputati e una per il senato con una sola x da barrare per ogni scheda o sul candidato uninominale o sul simbolo di partito barrando il simbolo il voto andrà al candidato del collegio uninominale e al suo partito per la parte proporzionale barrando invece il nome del candidato del collegio uninominale il voto andrà poi distribuito proporzionalmente ai partiti che lo sostengono non sarà possibile il voto disgiunto per la prima volta per votare i senatori sarà sufficiente avere 18 anni e non più 25 e chiudiamo questa ricca pagina politica per parlare di edilizia scolastica infatti partita la riqualificazione straordinaria della scuola pesarese di via fermi grazie ai fondi arrivati dal PNRR si tratta di uno dei vari cantieri scolastici di questa estate che ci vengono illustrate dagli assessori comunali riccardo pozzi e camilla murgia il mese di agosto è un mese di ferie di vacanza ma non per i cantieri della città in particolare per i cantieri delle scuole della città infatti in questi giorni durante il periodo di chiusura dell'attività didattica tante ditte hanno preso hanno preso il possesso dei cantieri delle scuole della nostra città appunto qua siamo in via fermi dove è un'importante opera di ristrutturazione straordinaria quindi più di 500 mila euro di lavori che interesseranno l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della scuola e della palestra sono lavori che si concentreranno da qui fino ai primi mesi del 2023 cercando di creare il meno disagio possibile durante il periodo dell'attività didattica e che appunto andranno a rendere questa scuola ancora più sicura più efficiente più funzionale più luminosa il cantiere di via fermi partito pochi giorni fa proseguirà fino alla fine dell'anno e sarà coordinato con la possibilità per i ragazzi e le ragazze di frequentare le lezioni la scuola con una regolare un regolare proseguo delle attività didattiche questo è un fiore all'occhiello dell'amministrazione che è sempre molto vicina sia ai dirigenti e ai docenti per coordinarsi al meglio sui lavori pubblici ma anche un fiore all'occhiello in quelle che sono le attenzioni verso le scuole i luoghi sicuri per i nostri ragazzi è un intervento questo molto importante non l'unico perché durante questa estate sono stiamo concludendo un altro cantiere importante nel nel polo d'infanzia di verecchi altre scuole stanno per partire con lavori molto importanti penso al la manzoni penso al trasferimento della dante ligheri che si sta completando nel nuovo polo di pesaro studi dove verrà realizzata una nuova scuola insomma tanti interventi sulle scuole e su questo l'amministrazione continuerà a puntare anche nei prossimi anni continuano gli interventi di riqualificazione del parco miralfiore di pesaro oggi nell'area protetta del laghetto aperto su visite guidate è stata completata l'installazione di una balaustra a servizio di una migliore fruizione di questa zona del parco cambiamo argomento perché proseguono gli approfondimenti in seguito alla conferenza internazionale svoltasi nelle scorse settimane il castello branca leone di piobico dal titolo l'arte in fuga da hitler si sono infatti aggiunti gli studi del ricercatore scultore andrea da montefeltro e del perito calligrafo forense stefano fortunati per capire se l'opera pittorica del novecento ribattezzata occhio delle serpente possa essere un dipinto mai attribuito a pablo picasso l'esperta d'arte analisa di maria ha infatti esposto a piobico questa possibilità in merito ad un'opera rappresentante una forte critica ad hitler e al nazifascismo dagli studi condotti si ritiene che possa trattarsi di un'opera inedita di picasso creata come tributo all'amico pittore paul clay perseguitato dal regime l'opera parla della nascita del nazifascismo paragonandolo ad un serpente feroce che ipnotizza e si insinua nella popolazione come un germe e dunque continuano le ricerche per comprendere se si è di fronte a un'attribuzione che avrebbe davvero dell'eccezionale e domani ultimo appuntamento con la diciottesima edizione del festival internazionale organistico vespri d'organo a cristo re e domani appunto mercoledì 24 agosto alle ore 21 e 15 nella chiesa del nome di dio in via petrucci saranno l'organista lorenzo antinori e la mezzo soprano stefania cocco a chiudere la rassegna eseguendo musiche dagli archivi dell'alta valle del metauro la salute mentale diventa una delicata te una delicata tematica da raccontare con una nuova rassegna di documentari si chiama in inclusione integrazione e insieme e partirà giovedì dal chiostro di san marco di mombaroccio dobbiamo ringraziare la cooperativa alfa che due anni fa ha costruito insieme a me questo documentario che poi vedremo anche all'interno della rassegna che noi briganti da questo documentario che ovviamente trattava sei storie di ragazzi e ragazze che con problemi psichiatrici e con fragilità mentali questo documento ha poi dato il via a una serie di idee in questi due anni abbiamo proiettato il documentario è stato è stato su diverse piattaforme in questi anni e da queste idee ovviamente insieme alla cooperativa il comune di mombaroccio un po la storia del nostro territorio abbiamo cercato di sviluppare ancora di più e parlare cercare di parlare ancora di più di queste tematiche da un po di anni a questa parte mi occupo e sono diciamo quella che un po tende a organizzare e a creare spazi per parlare di salute mentale in questa occasione abbiamo cercato di ispirati dai documentari che vedremo di appunto di parlare di salute mentale la rassegna si chiamerà rassegna di documentari in in sta per inclusione integrazione e insieme la salute mentale si narra perché noi riteniamo che queste tre parole sono fondamentali per la salute mentale per dei progetti riabilitativi e per sostenere le persone con fragilità mentali quindi partiamo nella giornata del 25 agosto dove verrà proiettata il documentario in viaggio con la mente di chiara me ne scalchi e federico caruso dove hanno girato questo documentario in argentina quindi sarà lingua argentina con i sottotitoli in italiano dove realmente si percepisce quanto la parola inclusione sia fondamentale non soltanto in argentina ma anche in italia è un termine fondamentale e ne avremo parlare a sviscerare questa parola sarà un dialogo con il sindaco emanuele petrucci e vito in serra che il fondatore della fondazione che il presidente della fondazione liberamente dove da anni e sul territorio per la tutela e la progettazione per le persone con fragilità mentali la seconda giornata invece sarà dedicata alla parola integrazione noi vedremo il documentario Cresi for Africa e questa giornata forse è più pratica nel senso che noi vedremo come e quanto sia difficile lavorare nel sociale e parleremo di quanto sia fondamentale integrare le diverse risorse anche di persone risorse proprio di persone di ruoli per parlare appunto per sostenere la fragilità mentale quindi avremo presente la corresponsabile del progetto Cresi for Africa che è assistente sociale Esther Pace e avremo anche la presidente dell'albo degli educatori Teresina Belperio e quindi parleremo di integrare le diverse figure di integrazione per la persona la terza giornata è quella un attimino un po' più di sostegno e grazie alla presenza del primario Maria Elena Ridolfi parleremo di come e cosa sta cambiando nella psichiatria dopo la pandemia e cosa bisogna fare per sostenere il territorio e qui c'è la parola insieme cioè cosa possiamo fare tutti insieme per la salute mentale abbiamo una storia alle nostre spalle che ci porta in questa direzione il briciotti la struttura accanto al centro storico il centro storico stesso dove l'accoglienza per le figure con demenza diventava parte integrante della società e dell'economia del territorio quindi quando mi è stato presentato questo progetto non potevo altro che dire grazie grazie perché ci riportano un pochettino indietro nel passato ci riportano in un contesto dove l'economia sociale faceva la differenza ma faceva anche sinergia faceva economia faceva posti di lavoro faceva accoglienza laddove le attività economiche conciliavano sia con i nostri concittadini ma sia con le utenti di questa nostra struttura che era il briciotti quindi un percorso legato alla malattia mentali e alle demenze che diventava sinergico con tutto il territorio in particolare con il borgo laddove l'ospite diventava amico del mio concittadino e quindi una sinergia importante per quello che era il contesto del mio comune e del mio borgo in particolar modo e concludiamo con un servizio di sport perché oggi il presidente della Carpegna Prosciutto Pesaro Ario Costa nonché vecchia gloria della Scavolini è stata premiata con il prestigioso riconoscimento della retina d'oro a quattro mesi dal ritiro della maglia numero 14 dalla storia bianco-rossa della VL Ario Costa, vecchia gloria della Scavolini Pesaro nonché presente e presidente della Carpegna Prosciutto Basket ha ricevuto oggi nel comune di Pesaro il prestigioso premio la retina d'oro un premio che in vent'anni è finito nelle mani delle eccellenze assolute del basket italiano da Gianni Petruccia, Dino Mineghin, passando per Valerio Bianchini, Dan Peterson, Sergio Scariolo, De Ambo di Roga, Ettore Messina, Danilo Gallinari, Marco Bellinelli o Pierluigi Marzorati un elenco che si allunga pure a personalità extra basket finendo pure fra alcune delle mani più influenti del pianeta dall'allora governatore della BCE Mario Draghi a Barack Obama fino a Papa Francesco oggi Ario Costa si è aggiunto a questo elenco illustrissimo per i valori etici e sportivi della sua carriera d'eccellenza nel basket nazionale ricevendo il premio dalle mani degli ideatori della retina d'oro Mauro Ruffini e Giampiero Caneschi è un premio che ci stava assolutamente, riconoscimento a una carriera unica che è toccata a pochissimi grandi giocatori una carriera da giocatore ad altissimi livelli con la maglia di Pesaro una carriera importante anche in nazionale e ora questa bella sfida dirigenziale di presidente della WL Pesaro che è una storica società, una storica piazza del basket italiano Orgoglioso ed emozionato Costa ha ricevuto il premio fra l'abbraccio di tutto il mondo WL dalla società ai consorziati per un premio applaudito anche dal prefetto Ricciardi e dall'assessore Mila della Dora Ricco di orgoglio, ricco di riconoscimento a quello che io spero di aver lasciato io ho sempre detto che ho sempre fatto tutto con grande umiltà, grande attaccamento grande sudore per stare in questo mondo e se mi viene riconosciuto tutto questo io sono molto contento quindi ringrazio Ruffini, presidente della Rettina d'Oro che ha pensato di darmi questo premio molto importante lo dedico a tutti quelli che hanno insieme a me contribuito a raggiungere tanti risultati quindi prima di tutto i miei compagni di squadra perché da soli in un sport di squadra si fa ben poco ho avuto compagni eccezionali, compagni che sono diventati anche amici per la vita quindi a loro prima di tutto, ai miei familiari che mi hanno sempre sostenuto e anche a me stesso E con questo servizio sulla Rettina d'Oro attribuita a Dario Costa si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordo la nostra prima serata che in questo martedì è dedicato ad una nuova puntata della TV dei viaggi alle 21.20 andremo a conoscere Mentone, la perla della costa azzurra e poi l'informazione su Rossini TV vi dà appuntamento domattina alle 7.20 come sempre in diretta con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa della provincia di Peso Rubino che come di consueto è dalle 7.20 dal lunedì al sabato a tenervi compagni e domattina ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi E sempre in tema di informazione ma non solo vi ricordo l'app di Rossini TV uno strumento utile per avere a portata di smartphone la possibilità di rivedere le nostre notizie di consultare il nostro palinsesto o anche di inviare segnalazioni alla nostra redazione Finisce qui questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi Grazie